Emanuele, dopo aver spezzato la mia penna, si è leggermente posato Guardate i segni dell'inchiostro, questa è la penna Questo è Emanuele che si lava E siamo a notare sullo trapelle tutti i segni dell'inchiostro La sua faccia freggiata da questa inutile vendicazione Inutile vendetta Questo è il segno di non osare, è meglio Alla prossima puntata